Tutte e due. Comunque diciamo che lei è partita subito con il teatro impegnato, però tra l'84 e l'86 poi ha girato quattro film erotici. Si era stufata di Chekhov, giustamente. No. Si era un po' divertire. Diciamo che non sono film erotici, sono film molto forti dal punto di vista della trama sessuale. La lupa, Scandalosa Gilda, Femmina, sono tutti i film che hanno... Fotografando Patrizia. Fotografando Patrizia, di Salvatore Samperi. Sono tutti i film che hanno a che fare con la sessualità femminile, quindi... Non li definirebbe erotici? No, no, è un termine banale descrivere dei film che hanno a che fare con la sessualità femminile erotici. Quel film ha consagrata Sex Symbol. Certo. E questo le piaceva? Le piaceva sentirsi Sex Symbol? Per fare l'attrice c'è bisogno di una grandissima forza seduttiva. E lei ce l'ha? Sì. È sexy? Ho una grande forza seduttiva. Cioè, sono capace, è un talento, è una grazia, di portare a me le persone e i maschi con più facilità. Senta, ed era brava, si sentiva disinvolta nel raccontare, non le piace la parola Eros, ma la sessualità? Non c'è niente di disinvolta in film così duri. È un testo di Sartre, scandalosa Gilda. Però la domanda era se lei si era mai imbarazzata a girare qualche scena, quando c'erano film, diciamo, più o se. No, no, non c'erano cose che mi avrebbero potuto mettere in così grave imbarazzata.